ciao a tutti i ragazzi bentornati sul canale di freshms io sono 7 e oggi siamo con un nuovo video della serie di call of duty allora intanto questo è un video che vi lascio di sottofondo ma oggi il messaggio principale che vi dobbiamo dare è un altro ovvero l'inizio delle sponsorizzazioni esatto frente dalla settimana prossima inizieremo un contest ovvero ogni giorno in ogni video che noi mettiamo o almeno in quasi tutti i video andremo a dare un indizio una parola un nome di uno youtuber ovvero in ogni caso lo specificheremo durante il video prende chiunque di voi mette nei commenti la parola e il minuto in cui noi abbiamo detto questa parola guadagna un punto e ogni settimana prende quelli che hanno più il ponteggio più alto verranno sponsorizzati alla fine di solito lo dovremmo fare lo sabato o domenica vediamo ancora non sappiamo se farlo settimanalmente ogni due settimane comunque questo qua vi aggiorneremo man mano allora tutto questo nasce dal fatto sapete della nuova gestione della monetizzazione da parte di youtube che pretende ora mille iscritti che va bene più o meno sono fattibili e ma soprattutto 4 mila ore di visualizzazione 4 mila ore sono una quantità immensa e quindi noi aiutiamo voi con le sponsorizzazioni e poi aiutate noi con le visualizzazioni vedendo almeno un gran parte del video perché prende onestamente la maggior parte non guarda tutto il video ma guarda una parte o magari il skip va avanti e così via quindi in questo modo ci date anche una mano a raggiungere la soglia dei corti 4 mila ore che sono notevoli diciamo soprattutto per i canali più piccoli magari 4 mila ore di visualizzazioni sono tante invece per poi magari i canali più grandi già 4 mila ore le hanno tranquillamente quindi in questo modo ovviamente alla fine soltanto i grandi canali continuano a guadagnare ancora di più mentre già noi prendiamo una di serie in questo modo non continueremo a fare i video solo per il piacere di farli come abbiamo fatto fino adesso diciamo invece in questo modo almeno ci date una mano e noi diciamo possiamo ricambiare sponsorizzandovi ovviamente saranno dei video sponsorizzazioni le facciamo vedere il vostro canale i vostri video parliamo di voi e penso che saranno più o meno a due o tre canali alla volta vediamo in base a quanta partecipazione c'è a questo contest ovviamente tutto questo mentre prima youtube dava semplicemente la partner a tutti poi ha cambiato ha dato un limite di 10.000 visualizzazioni e adesso purtroppo dopo il caso logan ball ha cambiato ancora per l'ennesima volta e sempre favorendo i grandi youtuber e cercando di fare pulizia dei piccoli canali noi continueremo a portarvi sempre i soliti gameplay cercheremo di aggiungere qualche gioco nuovo prossimamente nei prossimi in base alle uscite che ci saranno intanto la serie di code sicuramente non mancherà abbiamo continueremo con la serie di minecraft che sta andando diciamo vedo che mi sta piacendo e basta continuiamo la nostra strada e speriamo di divertirci come ci siamo divertiti fino adesso quindi per questo video diciamo vi lascio alla visione del video di questa partita di dominio che è andata abbastanza bene è stata una bella partita nei prossimi giorni dovrebbe uscire la nuova anzi il primo dlc di call of duty resistance vedremo di portarvi qualche video e soprattutto speriamo di prenderlo il primo possibile e quindi ragazzi per questo video è tutto almeno per quanto riguarda la parte commentata vi lascio alla visione della partita e spero che il video vi sia riuscito e quindi lasciate un like commentate e condividete con i vostri amici alla prossima ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.